Quanti mettiamo? Ulti! Lei, lei... Come va? Tutto bene? Eh, ben bellissima. Bravissima. 90 milioni. 90 milioni. 90 milioni di poche. Perchiamo di euro. Ma tu devi fare il video, tutti noi con lei. Eh, siamo a posto. Però ci siamo dimenticati il nome. Ne lo chiediamo. Eh, no, no, vabbè, non ce ne può. Guarda, guarda, guarda che succede. Betta. Questa signora vale non so quanti milioni di follower. Quanti milioni di follower abbiamo con lei? Abbiamo fatto in diretti. Non stai in diretti. Non stai in diretti. Sono in diretti. Serve il luogo. Vedete, tutti i pazzi di lei. Mademoiselle. Mademoiselle. Gesù, così si chiama. Gesù, Gesù.